Manola Di Pasquale fa chiarezza sulla storia dei fondi ex-Pine destinati al castello della Monica di Teramo, soprattutto dopo le dichiarazioni a mezzo Facebook fatte dal sindaco Brucchi, dove diceva di essere stato accusato di marchetta elettorale. I fondi erano stati annunciati dal governo Chiodi e poi bloccati dal collegio dei revisori dei conti, per inesattezze burocratiche. Oggi, dopo l'ok arrivato dal governatore D'Alfonso, la Di Pasquale precisa l'intera vicenda. Più che una politica è stata una precisazione, perché questa delibera che era stata fatta nel mese di maggio del 2014, cioè in piena campagna elettorale, era stata fatta per far vedere che comunque in regionale avevano fatto qualcosa per Teramo, visto che si rivotava a Teramo. Ma in realtà era una delibera fatta in fretta e in furia, senza una programmazione, che ha dimostrato l'incapacità amministrativa di questa giunta che aveva con il presidente Chiodi, e quindi si è dovuta revocare. L'hanno revocata per poi rifarla una con esatta programmazione, cioè con le priorità. Ovviamente però il sindaco Brucchi aveva detto che questi fondi erano stati tolti da Luciano D'Alfonso. Nonostante l'ok arrivato dal suo diretto superiore, Luciano D'Alfonso ancora qualche osservazione ci tiene a muoverla, come quei 50.000 euro messi in programmazione dal sindaco per un museo del gatto. Ovviamente quello che dovrà essere rivisto sono le altre richieste, perché non ci dimentichiamo che in questa richiesta Teramo aveva chiesto anche 50.000 euro per fare un museo del gatto, che ritengo forse debba essere rivista.